Ciao a tutti, io sono Nicola Eh, lo so E tu? Io no No, devi dire il tuo nome Il tuo nome, no Io sono cretino Ma tu, tu sei cretino Ascolta, io sono Nicola Dai, ripeti quello che dico io Ripeti quello che dico io Ma non così Ma non così, dai Io, io Sono, sono Isotta No, sono io, Isotta Che stai a dire Questo devi dire Ah, capito Lui è Isotta Ah, 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 ah Vabbè, facciamo scusate, eh Vabbè, insieme siamo Nicola E Isotta Nicola e Isotta No, Nicola so io E tu sei Isotta No, quindi Nicola e Isotta No, quindi Isotta So io e Nicola Sei tu, quindi Isotta e Nicola Allora, facciamo una cosa Oggi Lanciamo Una nuova rubrica Che si chiama Uomo Contro Scimmia Perché che dica l'uomo? Vabbè, facciamo così allora Carino Io dico uomo contro scimmia Tu dici Scimmia contro uomo Ok, carino Così io dico Isotta e Nicola Tu dici Nicola e Isotta Sì, carino, vai Rifacciamo Ok Signori, oggi lanciamo una nuova rubrica Che si chiama Uomo contro scimmia O Scimmia contro cingiale Uomo Non c'è tu? Sì Scimmia contro cingiale Vabbè, io non ne posso Allora, mi raccomando Allora, seguitaci Iscrivetevi a questo canale Seguite questa playlist Se volete, ecco E mi raccomando E mi raccomando Condividete Quasi si chiama tutti Di questa nuova iniziativa Io contro di lui Lui contro di me Quindi signa contro uomo O signa contro uomo O contro signa Signa contro Signa contro Cingiale Cingiale Che io non c'ho capito niente Va bene, allora La sfida abbia Inizio La musica del zio A questo